Sono 850 le imprese edili registrate tra le province di Pescara e Chieti, per un totale di 6.300 maestranze impiegate nel settore che, come tantissimi altri lavoratori, stanno pagando il prezzo di un preoccupante carovita legato alla crisi energetica. Anche per far fronte alla diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti delle imprese edili e affini, è stato sottoscritto il primo contratto interprovinciale dell'edilizia Chieti-Pescara tra Lance, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e le organizzazioni sindacali delle due province di Chieti e Pescara. L'accordo, presentato questa mattina nella sede di Confindustria Chieti-Pescara, integra il contratto collettivo nazionale del lavoro e ha effetti contrattuali ed economici che decorrono dal 1 ottobre 2022, come spiegato dal presidente del Lance di Chieti-Pescara, Antonio Dintino. Abbiamo ritenuto in procrastinabile far decorre dal 1 ottobre il nuovo contratto, dove per la prima volta, giustamente come diceva lei, le province di Chieti e Pescara avranno per la prima volta, dicevo, il contratto insieme. E questo è andare incontro alle nostre maestranze, perché giustamente ci sarà un aumento e quindi in questo momento di crisi, specialmente energetica, e abbiamo visto con l'inflazione del caro spesa, sicuramente è un aiuto in più per le famiglie. Non ci dimentichiamo che questo va verso l'unificazione anche dei nostri enti peritetici, sia la Cassedile e sia il Formedil col CNCPT, per dare sempre più servizi. Più servizi sicuramente anche nell'ottica, soprattutto, della formazione e informazione sulla sicurezza. Noi i nostri CPT siamo dotati di tecnici che vanno direttamente sui cantieri a formare e informare sulla sicurezza. Ci sono dei numeri che raccontano l'impatto di questo settore sull'economia a livello provinciale, visto che parliamo di Chieti e Pescara? Le imprese iscritte nelle due province in Cassedile sono circa 850, per un fatturato di circa 600 milioni di euro. Le imprese hanno i dipendenti iscritti in Cassedile e sono 6.300, quindi 6.300 imprese avranno un contratto nuovo dal 1 ottobre. Un'attenzione particolare sarà dedicata anche alla sicurezza nei luoghi di lavoro, oggetto della settimana incentrata proprio sulla salute e sulla sicurezza presentata ieri da CGL Cisle Will. Sempre la nostra categoria, le industrie di costruzione, si è munita degli enti bilaterali. Noi abbiamo il CNCPT, che sono ancora in fase di fusione anche loro e entro l'anno speriamo che diventano anche i Chieti e Pescara. Ci occupiamo proprio di informazione e formazione sulla sicurezza sul lavoro. Naturalmente il cantiere edile ha sempre delle particolarità, però l'impegno nostro è cercare di portare a zero gli infortuni sui cantieri. Grazie.